In Germania io vado ogni anno ai raduni loro, quest'anno sono andato per vari motivi, perciò loro fanno due raduni all'anno, ne fanno uno a Bad Reckernal, la gente è a centinaia, l'unica nazione che non c'è è l'Italia ed è una vergogna, perché io che sono uno qualsiasi, ci vado, mi invitano, inviteranno anche gli altri, noi abbiamo un ministero e abbiamo avuto tanti da tutti, tanto è vero che io ho voluto per ricordarli fare questa sala con l'aiuto di qualche altro, l'aiuto l'ha dato Orrini, Malvecci e tanti altri e ringrazio soprattutto i parenti che mi hanno dato le divise, tutti gli oggetti che sono qua, sono qua, e basta, è tutto che dicono, la gente viene qua, non sa, e adesso lo sa, perché questi ragazzi avevano 20 anni, al massimo 28, e sono caduti tutti, perché dobbiamo, e io li ammiro e li terrò sempre qua, sempre.